Miezzana via, la meraviglia, 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 va in archivio l'edizione 2016 del Meeting del Mare. Oltre a Camerota, quest'anno si sono aggiunti altri due comuni, Salvelino e Sapri, dove si è svolta la seconda parte del festival. La prima serata si è tenuta nel porto di Salvelino Marina e ha visto la partecipazione di Jovine, giovane cantautore. Il 29, nel Cineteatro Ferrari di Sapri, si è tenuto lo spettacolo Orfeo, la musica che salva. Il 30 agosto, il lungomare della cittadina della spiegolatrice ha visto esibirsi Calcutta. Il gran finale, sempre sul lungomare Saprese, si è tenuto ieri sera, con la partecipazione del poliedrico ed effervescente Daniele Silvestri.